Dopo le prime 10 partite giocate in questa Serie A, la Roma ha subito appena 5 gol grazie alla compattezza e alla solidità mostrata da tutto il reparto difensivo guidato magistralmente da Alisson Becker. Il portiere brasiliano è alla seconda stagione in giallorosso ma è esordito in campionato solo lo scorso 20 agosto nel match contro l'Atalanta e dopo le sue prime 10 partite ha mantenuto la porta inviolata per ben 7 volte. Tra i portieri al debutto in Serie A con la maglia giallorossa negli ultimi 40 anni solo Morgan De Sanctis è riuscito a fare meglio. Nella stagione 2013-2014 riuscì infatti a non subire gol in 9 delle prime 10 giornate. Cristiano Lupatelli invece fece 7 clean sheet al pari proprio di Alisson a cavallo tra la stagione 99-2000 e quella dello scudetto vinto con Fabio Capello in cui era il vice di Antonioli. Il podio virtuale è poi completato da Antonio Chimenti, Michi Consell, Angelo Peruzzi e Paolo Conti. Tutti e quattro nelle loro prime 10 partite in Serie A con la maglia della Roma hanno tenuto chiusa la porta in 5 occasioni mentre a quota 4 ci sono Pelizzoli e Franco Tancredi.